Ciao ragazzi, nella difesa personale da strada ci si può difendere con la lotta, utilizzando la lotta? Beh, la mia opinione è sì, anzi, io sono dell'idea che se sai lottare hai sicuramente un quadro generale della situazione molto più completo. La mia opinione è che saper lottare è importante tanto quanto saper portare dei colpi, soprattutto in un contesto di questo tipo. Poi talvolta mi è parso di capire che nell'ambito della difesa personale da strada la lotta sia trattata un po' come un optional, cioè con l'accessorio non previsto di serie nell'ambito del combattimento, tanto per farti un esempio di come la vedo, di come la penso. Ti sarà capitato anche a te più volte di aver sentito se vieni aggredito mantieni la distanza con il tuo aggressore, colpiscilo possibilmente negli zebedei e poi datela a gambe. Vabbè, è una strategia che ovviamente condivido, il problema è che questa strategia non la puoi sempre utilizzare. Da questi ragionamenti, tra l'altro, nascono un po' quegli accrocchiamenti di tecniche che ti insegnano a liberarti da delle prese senza però imparare realmente a lottare perché poi durante l'allenamento lo studio è focalizzato più che altro sul colpire il tuo aggressore e fuggire. Colpire il tuo aggressore mantenendolo a distanza. Ok, va benissimo, i colpi sono una parte fondamentale della nostra difesa, nella difesa personale, però se il tuo allenamento è focalizzato esclusivamente sui colpi, sul portare i colpi e non sul gestire la forza che ti verrà poi esercitata quando un aggressore, quando qualcuno ti ha afferrato ti manca una parte del lavoro, del lavoro importante che serve nel caso ci si dovesse difendere. C'è da dire poi che in quelle condizioni a meno che uno non sia specificatamente addestrato c'è una tensione tale, non è che si sta bevendo un caffè, voglio dire, che ci porta a reagire in maniera strana, non si è ben concentrati e focalizzati sulle tecniche che ci sono state insegnate, a meno che poi tu non esca il libricino, esca, c'è qualcuno che esce il libricino, leggi le tecniche che in quel momento sono più, che vanno meglio in quel momento e le metti in pratica. Penso sia difficile questa cosa. Quindi tirando le somme, la lotta della difesa personale da strada è importante? Ovviamente sì. La si può imparare accrocchiando delle tecniche alla mia cucina. No. Pensare o essere peggio convinti che si possa essere efficaci con delle tecniche di lotta in un contesto di aggressione solamente perché le si sono imparate all'interno di un programma dove ero focalizzato più che altro a portare dei colpi e poi fuggire è illusorio e sii consapevole di questo. Altrimenti cadrai vittima di quello che è l'effetto Dunning & Kruger che tra l'altro potrebbe essere un ottimo tema per un prossimo video. Ora devo andare ragazzi, scrivetemi che cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.